Facciamo proprio un lavoro tailor made, ossia un lavoro fatto per il cliente, in base a quelle che sono le sue necessità e in base a quella che è la sua attività e la sua strategia e il suo business plan, gli proponiamo la struttura giuridica societaria più adatta. E lo accompagniamo in tutti i processi, dalla fase di costituzione alla fase di ottenimento del visto, alla fase di apertura del conto corrente personale bancario, ci occupiamo di tutta la gestione della società sia al lato contabile che al lato legislativo, ci occupiamo anche del rinnovo della licenza perché ogni anno la licenza della società va rinnovata. Qualora il cliente voglia effettuare un investimento immobiliare abbiamo una rete di broker di real estate molto molto bravi che individuano la tipologia di investimento giusto sempre a seconda di quelle che sono le esigenze del cliente e poi sempre rispetto alle caratteristiche dell'azienda e del cliente gli forniamo anche un servizio per l'ottenimento del golden visa. C'è la possibilità di fare business a Dubai e negli Emirati? Sì, c'è la possibilità di fare business, è il posto numero uno al mondo, mai come in questo momento storico. Per qualunque persona abbia il coraggio di osare di mettersi in gioco Dubai è pronta ad accoglierla, ma attenzione ad affidarsi a una figura professionale che possa accompagnare l'imprenditore.